Assalto al Bancomat di Cartoceto questa notte intorno alle 3. Quattro soggetti a volto coperto si sono introdotti nel locale della banca del credito valtellinese ex carifano adiacente alla chiesa della Santa Maria della Misericordia e lo hanno fatto saltare utilizzando la tecnica della marmotta. Ad accorgersi per primo dell'assalto è stato il collaboratore del parroco che ha il suo appartamento sopra il locale col Bancomat. Ho sentito un buoto fortissimo, una grossa esplosione ha riferito, sembrava il terremoto, ho avuto tanta paura. Dopo la deflagrazione si è alzata una grossa colonna di fumo visibile da tutto il paese e l'allarme ha iniziato subito a suonare svegliando di soprassalto tutte le persone nel raggio di qualche centinaio di metri. Nella fretta di portare a termine l'operazione i quattro malviventi non sono riusciti a dare a fare tutte le banconote disponibili all'interno dell'ATM sui 10 e 15 mila euro. I carabinieri di Saltara intervenuti sul posto hanno rinvenuto a terra circa 2 mila euro in contanti. Per ora dei malviventi nessuna traccia.